Tra le varie spazzole in produzione c'è una novità che rappresenta una vera innovazione in questo campo, la spazzola silenziosa. Un tipo di spazzola realizzata utilizzando fili di acciaio a trefoli, ricoperta da gomma che la protegge dall'usura e ne riduce in modo significativo il rumore causato dalla raschiatura esercitata sulla superficie da spazzare meccanicamente. Si tratta di una utilissima innovazione, particolarmente indicata per spazzatrici che lavorano in zone sensibili, come centri storici, zone ad alta densità abitativa oppure nelle ore notturne. Altra importante innovazione sono le spazzole componibili, cioè spazzole fatte con basi circolari che si possono scomporre in quattro sezioni. Ciò consente di produrre spazzole che si possono adattare a qualsiasi tipologia di spazzatrice. Queste spazzole, inoltre, sono dotate di un attacco rapido che ne facilita estremamente lo smontaggio ed il montaggio. La particolarità di avere basi circolari delle spazzole che si separano aggiunge altri vantaggi, come ad esempio la possibilità di fare meno magazzino e quindi ulteriore risparmio economico sui costi di produzione. La scelta dei materiali viene fatta usando i criteri della sostenibilità ambientale, tra i costruttori migliori che hanno caratteristiche di maggiore affidabilità in termini di efficienza e durata. I materiali vengono scelti attentamente valutando vari aspetti e comunque sempre testati con l'utilizzo su strada e valutando la qualità di pulizia e la durata. Questa attenzione alla ricerca del prodotto migliore alla cooperativa La Formica è sempre in primo piano. Il servizio prevede la costante valutazione e sperimentazione di nuovi prodotti e nuove tecnologie per aumentare e migliorare le prestazioni della spazzola in produzione. Si tratta di una produzione di spazzole industriali molto innovativa, che riesce a soddisfare ogni richiesta in riferimento al tipo e alla misura e che riesce ad avere prezzi molto competitivi, in quanto si sfruttano tutti i processi produttivi legati al riutilizzo di materiali riciclati. Il fatto che le spazzole siano prodotte da persone svantaggiate non fa altro che aggiungere valore al valore. Valore sociale e valore ambientale che confermano l'identità della cooperativa. Viene garantito uno spazio lavorativo a chi proviene da categorie protette e nello stesso tempo si propone un prodotto innovativo, rigenerato, ecologico che abbatte i costi di smaltimento. Costi che normalmente sono a carico dell'ambiente e dell'azienda che usa e consuma le spazzole per gestire i servizi di pulizia. Per chi è interessato, la consegna ed il ritiro della spazzola consumata può essere fatta anche a domicilio.